Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Mario Monti, senatore a vita, ex presidente del Consiglio, ex commissario europeo, benvenuto, buonasera, benvenuto Stefano Ceccanti, costituzionalista, promotore di un comitato per il SIA referendum, buonasera bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Senatore Monti, oggi nella conferenza stampa congiunta a Washington, Obama ha detto che Renzi intanto è un leader nuovo del futuro, un leader mondiale e poi ha detto a Renzi che se il SIA referendum aiuterà l'Italia. Ora, intanto vorrei sapere da lei se queste parole del Presidente americano sono un endorsement da considerarsi una indebita ingerenza negli affari italiani e poi vorrei sapere perché lei in realtà pensa il contrario, lei non pensa affatto che il SIA al referendum aiuti l'Italia. Ma non credo che ci siano indebite ingerenze, ormai il mondo è talmente interconnesso che tutti ci pronunciamo su tutto, del resto autorità italiane e privati italiani si pronunciano senza particolari esitazioni sulla campagna elettorale americana. Io credo che prendendo astrattamente una modifica della Costituzione, se questa sembra garantire maggiore governabilità, qualsiasi collega di un capo di governo italiano non può che vederla favorevolmente. Io, visto che lei mi chiede perché ho gravi e perplessità, ho bisogno di un minuto. Però aspetta, chiariamo per il nostro pubblico, Presidente. Lei ha detto che voterà no al referendum. Io ho detto che voterò no al referendum e se vuole spiego le ragioni, o se no aspetto che la conversazione mi porti a esplicitarle. No, ce l'espliciti. Allora, io non credo che l'Italia sia ingovernabile. Se c'è qualche volta una scarsa governabilità dell'Italia, la si deve piuttosto alla esitazione di chi governa che non osa prendere le misure necessarie per timore di essere impopolare. Non credo che il requisito principale che manchi alla governance italiana sia quello della velocità. Il Presidente del Consiglio Renzi è un esempio di come si possa governare piuttosto incisivamente l'Italia anche con la Costituzione attuale. Ci sono state altre prove date da Ciampi, da Amato, da Prodi al momento dell'ingresso nell'euro. Non cito l'esperienza più recente del mio governo e non credo quindi che ci sia un grosso problema da quel lato. Secondo me le ragioni per cui l'Italia stenta a diventare un paese come tutti lo vorremmo sono di piombo che consiste nella incapacità o non volontà di toglierci di mezzo l'evasione fiscale, la corruzione e la ricerca del consenso nel governare. Allora queste cose non hanno niente a che vedere con la Costituzione, però la mia critica è che in questi ultimi tempi la vita italiana si è tutta concentrata su questa riforma della Costituzione che ci viene presentata come quella che risolverà anche certi problemi economici eccetera e si sono lasciate un po' da parte le altre priorità o addirittura si sono fatti a mio giudizio dei sacrifici, qualche passo indietro sulle altre priorità come la lotta all'evasione fiscale o la lotta a favore della concorrenza per costruire il consenso. Sì però mi scusi Presidente Monti la devo interrompere perché mi scusi se la interrompo ma siccome anche lei stesso ha detto che in realtà evasione fiscale, corruzione, ricerca, consenso che sono i motivi per i quali lei poi voterà no al referendum non c'entrano molto con la Costituzione, allora perché vota no? No, non sono questi i motivi per cui voterò. No, assolutamente no, tant'è vero che dico nella mia intervista che non vedo ragioni per cui anche in caso di vittoria del no Renzi debba lasciare e anche all'estero io quando mi chiedono diffondo questo messaggio, non ho niente contro Renzi se non il fatto che non mi sembra che in questi anni straordinariamente favorevoli come contesto internazionale se sia fatto tutto il cammino necessario su questi problemi, ma tornando alla Costituzione io penso che contenga delle cose abbastanza buone e che tutti possono apprezzare, contenga delle cose non buone per esempio il fatto di aver mantenuto in vita il Senato, depotenziato in questo modo, secondo me è una cosa non buona credo che sarebbe stato meglio abolirlo o comunque non prevedere questa partecipazione in veste di senatori di rappresentanti della vita politica regionale. Vede, dottoressa Gruber, nello stesso numero del Corriere che oggi reca la mia intervista c'è un lungo articolo di Paolo Mieli che recensisce un saggio di Piero Craveri che critica i partiti della Prima Repubblica l'esplosione della spesa pubblica e il fallimento drammatico delle regioni. Ecco, io avevo presentato un disegno di legge costituzionale in Senato che pur tenendo fermi tutti i paletti di Renzi... Presidente Monti, la devo un attimo interrompere, perché lei mette troppa carne sul fuoco e devo interpellare i miei ospiti Aspetti, aspetti un attimo. Allora intanto voglio chiedere a Marco Travaglio se Mario Monti è un buon testimonial per il no al referendum Ma se non è questione di testimonial, è una persona che ha fatto delle esperienze a livello europeo, a livello italiano e dice delle cose, mi sembra assolutamente sensate, cioè che il Senato non può essere composto da sindaci o da consiglieri regionali che i sindaci e i consiglieri regionali non possono sdoppiarsi in un doppio lavoro tra le loro città e la città di Roma per venire a fare le leggi come se fosse un dopolavoro quello di fare le leggi dice che i problemi ovviamente sono altri, dice che questa è un'arma di distrazione di massa dice delle cose assolutamente sul tappeto, sono delle cose giuste Poi io non vado a vedere i testimoni come non vado a vedere il testimone all'Obama francamente io se fossi al posto di Obama anche io sarei un grande tifoso di questa riforma noi siamo una piccola colonia degli Stati Uniti e quindi i presidenti americani quando devono darci gli ordini hanno sempre il problema che se danno l'ordine al Presidente del Consiglio poi devono garantire che quello che fa il Presidente del Consiglio venga approvato dalla Camera, dal Senato e che poi non ci sia la Corte Costituzionale adesso che avremo un uomo solo al comando faranno un solo numero di telefono, daranno l'ordine e verrà immediatamente eseguito quindi dal loro punto di vista Obama va benissimo a dire votate sì è a noi italiani che non conviene, infatti questa riforma piace molto alle cancellerie internazionali oltre che alle grandi banche d'affari e pochissimo al popolo italiano perché il popolo italiano vorrebbe scegliersi i senatori e questo non sarà più possibile purtroppo Allora parola a Professor Ceccanti, le devo anche chiedere se da Mario Monti lei si aspettava un sì al referendum? Il Professor Monti ha votato la riforma in prima lettura e stamattina dice testualmente di questa riforma mi hanno sempre convinto la modifica del rapporto tra Stato e Regioni, l'abolizione del CNEL e la fine del bicameralismo perfetto cioè la riforma, che è questa cosa qui quindi se poi lui è contrario alla finanziaria voti contro la finanziaria ma all'essere contrario alla finanziaria non c'entra nulla col votare contro la riforma costituzionale come è noto la riforma costituzionale serve a risolvere alcuni gravi problemi tra cui non ripiombare di nuovo nel rischio di maggioranze diverse da due Camere che danno la fiducia quattro volte su sei dal 94 abbiamo avuto maggioranze diverse l'ultima volta siamo piombati in un caos perché con queste due maggioranze diverse non si riusciva né a formare il governo né a leggere un Presidente della Repubblica siccome tutti ricordano all'estero questo momento drammatico tutti dicono ma non è che l'Italia soffre di una cosa, vuole soffrire di nuovo e vuole ripiombare in questo caos e quindi immaginano che ci sia una razionalità nella vita politica italiana e che gli italiani vogliono troncare col doppio rapporto fiduciario e vogliono avere un Senato che risolve il problema dei conflitti centro-periferia Allora Mario Monti, è vero che i nostri principali partner e istituzioni economiche internazionali sono generalmente per il sì al referendum in nome della stabilità ora lei è sempre stato un alfiere della stabilità perché non lo è più? Perché non è più così importante? Prima di tutto vorrei dire che non ho nessuna intenzione di essere testimonial siccome ogni volta che incontro un giornalista, compresa lei, mi viene chiesto cosa farò sul referendum adesso mi sono sentito maturo per dare la mia opinione che non mira a influenzare nessuno all'estero non vedo interesse per il referendum se non un interesse un po' morboso che io credo, facendo l'interesse dell'Italia, ho cercato di scoraggiare quando subito dopo Brexit hanno cominciato a dire ma adesso siete voi italiani sotto tiro perché se per caso andasse male al Presidente Renzi il suo referendum altro che Brexit salta l'euro e via dicendo io ho sempre detto guardate l'Italia è un paese responsabile ci siamo tratti con le nostre forze senza nessun aiuto da una crisi che veramente rischiava di far cadere l'Italia e l'euro e io personalmente penso che anche Ove dovesse perdere il referendum ho sempre detto all'estero Renzi possa continuare non vedo perché no e ho più volte apprezzato alcuni aspetti della sua attività di governo soprattutto all'inizio e questa domanda di stabilità c'è e ce l'abbiamo anche noi italiani se ci è consentito di esprimere un'opinione ma è veramente un po' sbagliato fare un legame con la Costituzione parlo sotto il controllo del Professor Ceccanti che ovviamente è molto più esperto di me ma sulla carta la più bella Costituzione europea è quella della Grecia perché ha una sola Camera di relativamente pochi membri 300 un forte premio di maggioranza e quando il Parlamento cincischia nell'eleggere il Capo dello Stato poche storie dopo due scrutini infruttuosi il Parlamento viene sciolto eppure non è che questo supporto costituzionale abbia molto aiutato la Grecia ad avere una performance splendida altra cosa la sindrome la febbre non del sabato sera perché di solito è della domenica cioè si è detto vogliamo una Costituzione vogliamo una legge elettorale che consentano la domenica sera di sapere chi ha vinto e chi governerà per cinque anni è bello se si può in Germania non sempre questo accade perché quando c'è una coalizione da formare ebbene ci vogliono settimane forse mesi poi si sa che governa Merkel alla fine di quel processo con un patto molto chiaro e pubblico e trasparente che non lascia poi spazio a immaginazioni su Serafini Cherubini, Arcangeli o Nazareni e però la domenica sera non si era saputo chi aveva vinto quindi in più io credo che il nostro sia un paese il quale non è che legifera troppo lentamente legifera troppo e spesso troppo sbadatamente cioè seguendo una corrente unica di pensiero si fanno delle cose quasi all'unanimità e dieci anni dopo si pensa che siano sbagliate e si rifanno allora visto che il Senato non si voleva tenere si poteva diciamo arricchire il Senato come composizione il disegno di legge costituzionale che avevo presentato prevedeva questo mettendo accanto ai consiglieri regionali e ai sindaci anche delle personalità che le regioni avrebbero nominato ma dalla vita civile culturale associazionistica delle varie regioni lasciamo replicare Ceccanti e poi Travaglio dunque io continuo a pensare che questa originalità italiana di affidare a due Camere il rapporto fiduciario con i 18-25 anni che votano solo alla Camera 4 milioni e mezzo di rettori significa avere una spada di Damocle di maggioranze diverse che pesa sulla vita del Paese e incide pesantemente è capitato nel 2013 a Berzani era capitato nel 94 a Berlusconi che riuscì a formare il governo solo grazie ai transfughi al Senato in altre situazioni si è dovuto muovere tutti i senatori a vita per fare una maggioranza questa cosa non è bene è una cosa sbagliata veniamole in Italia è molto difficile fare coalizioni anche grandi coalizioni il governo Monti è stata una grande coalizione sotto la schermata di un governo tecnico non è durato neanche molto Berlusconi si è ritirato per fare una grande coalizione Berzani Berlusconi si è dovuto fare un governo dei numeri due Alfano e Letta quindi l'Italia ha molti più problemi a fare questo e comunque le grandi coalizioni se diventano la regola anziché l'eccezione sono dei problemi lo vediamo in Austria i due partiti della grande coalizione nessuno dei due è il candidato al balottaggio dei presidenziali e in Germania la somma di due partiti che fanno la grande coalizione sono partiti nella prima grande coalizione dal 75 ora sono poco sopra non è bene non è bene che il centro-destra e il centro-sinistra alternativi siano costretti a governare insieme per cui questo li fa sembrare uguali e gonfia le forze antisistemi allora vorrei chiedere a Travaglio siccome Mario Monti ma non solo lui pensa che Renzi cerchi consensi per il SICON bonus fiscali e largizioni e anche strizzando un po' l'occhio agli evasomorini tu sei tutti e due sei d'accordo su questo il ministro Pado ha specificato che non c'è nessun condono fiscale in questa manovra si perché li chiama quando vogliono fregare meglio la gente usano una parola inglese usano voluntary disclosure che suona molto è come Jobs Act Jobs Act come abbiamo visto dai dati di oggi ha prodotto in primi sette mesi di queste primi otto mesi di quest'anno un aumento dei licenziamenti del 31% e un aumento della precarietà impressionante che è esattamente il contrario di quello che era stato annunciato però chiamandolo Jobs Act vuoi mettere voluntary disclosure è un condono nominale a differenza di quelli di Tremonti che erano anonimi questo è nominale si sa chi è che viene condonato e si risparmiano un sacco di tasse sulle tasse che non si sono pagate su quei contanti che si sono messi nel muro nel materasso oppure nelle cassette di sicurezza io ero molto critico sul governo Monti due cose buone le ha fatte una non fare condoni e quindi dire alla gente non aspettatevi condoni questo governo invece va di condono in condono questa è la terza voluntary disclosure la prima fu riaperta e questa è la seconda ma quasi terza Monti non fece le Olimpiadi perché giustamente la città di Roma non se le poteva permettere e Monti fece anche una legge anticorruzione perfettibile che si chiamava Severino questo governo strizza gli occhi alla evasione fiscale in tutti i modi insomma ha alzato il limite del contante e adesso completa l'opera con un'operazione condonistica che creerà semplicemente altre aspettative di condoni e quindi porterà sempre meno soldi nelle casse dello Stato perché i cittadini invece di pagare questo aspettano il prossimo che sarà a prezzi ancora più stracciati questo è purtroppo l'effetto placebo che creano i condoni oltre ad essere estremamente diseducativi e criminogeni perché sono un incentivo a delinquere e a evadere è tragico avere un Presidente del Consiglio che vive perennemente in campagna elettorale perché adesso lo fa per il referendum ma qualche mese fa le altre cose le faceva per le amministrative e due anni fa gli 80 euro li fece per le europee purtroppo sono tutti bonus e regali come il Marchese del Grillo che lancia i soldi dal balcone che non provocano nessuna scossa all'economia allora devo dare la parola a Monti per un minuto prima della pubblicità Presidente Monti sì per dire che effettivamente non abbiamo fatto neanche un condono a quell'epoca posso aggiungere che la tentazione era grandissima come non era mai stata per nessun altro governo perché avevamo un disperato bisogno ma Renzi sta facendo dei condoni con questa manovra economica? beh di fatto di fatto questa voluntary disclosure di questo tipo sul contante può anche includere aspetti di favore al riciclaggio non solo è discutibile dal punto di vista dell'evasione dell'evasione e poi la famosa abolizione di Equitalia anche quello è un tema molto complesso ma se vuole ne parliamo ma credo che il mio minuto sia finito ne parliamo subito dopo la pubblicità restate con noi Marco Travaglio per l'abolizione di Equitalia si sono sempre schierati a favore praticamente tutti i partiti 5 stelle in testa quindi questa è una cosa buona che ha fatto Renzi? dipende da che cosa vuol dire abolire Equitalia se abolire Equitalia significa abolire un soggetto che riscuote le tasse penso che sia semplicemente demenziale perché qualcuno alla fine che lo chiamiamo Equitalia o che lo chiamiamo Pippo ad andare in giro a riscuotere le tasse presso quelli che non le pagano o che ne pagano di meno ci vorrà sempre quindi lo possiamo chiamare come vogliamo dipende dalle regole di ingaggio che si danno a Equitalia Equitalia veniva dipinta populisticamente come un vampiro che sfuggiva al controllo e che andava in giro a fare del male alla gente ed è vero certe volte anzi molto spesso si comportava in maniera impietosa applicava degli interessi pazzeschi delle more disumane eccetera ma non è che lo faceva in quanto Equitalia girava così è che il governo del momento dava a Equitalia e dà a Equitalia le varie regole di ingaggio l'ultima volta è stato nella legge delega del 2014 che Renzi si è fatto fare per poter mettere mano a sanzioni more, interessi e metodi di riscossione e i metodi di riscossione le more, gli interessi e le sanzioni che applicava Equitalia fino a oggi erano quelli decisi dal governo Renzi due anni fa quindi che Renzi venga a dirci sono dei vampiri c'ho piacere ma se sono dei vampiri è perché gli ha detto lui di essere dei vampiri allora il problema non è abolire Equitalia perché tanto ci sarà qualcun altro che si chiama in un altro modo adesso Equitalia che cosa succede la prendono e la mettono dentro all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate con il personale di Equitalia con un'altra targa continuerà a fare le stesse cose che faceva prima a meno che il governo non cambi le regole di ingaggio a Equitalia quindi non inganniamo i cittadini non c'è nessuna abolizione è un inganno per i cittadini Presidente Monti questa annunciata abolizione di Equitalia da parte di Renzi ma non so se è un inganno però bisogna tenere presente che Equitalia ha diretto le sue attenzioni sempre a evasori cioè persone imprese che o non hanno contestato l'accertamento o l'hanno contestato e hanno perso in grado definitivo diciamo va anche tenuto presente mi dicono gli esperti io non sono esperto a questo punto che in Italia un credito dello Stato per mancato pagamento di imposta non ha le stesse garanzie la stessa forza per essere riscosso che ha un credito delle banche per esempio non si può da un po' di tempo Equitalia non poteva pignorare la casa del debitore di tasse ma però la banca può far pignorare la casa e infine nel confronto internazionale ci sono state recentemente delle raccomandazioni dell'Ocse e del Fondo Monetario Internazionale che hanno criticato queste procedure di riscossione in Italia però definendole troppo garantiste Professor Cecanti io dico che tutte queste cose non hanno nulla a che fare con il referendum cioè noi sulla scheda vorrei che noi non cumulassimo i due dibatti perché io sono qui a difendere sia il referendum quelli che votano sia il referendum pensano che la Costituzione sia migliorata sulla scheda non c'è siete per la volontà le disclosure o Equitalia o altre cose quindi sono due dibatti diversi se uno non gli piace prego stavo rispondendo alla domanda diciamo che se dicono di aver abolito Equitalia dico solo che uno dei maggiori protagonisti delle finanziarie a spesa mostruosa Cirino Pomicino fa parte del Comitato per il no quindi non mi sembra esattamente un'accolita di sostenitori dell'austerità di Bilal uso questo argomento perché come è noto quando avete Verdini i danni causati al bilancio pubblico da Cirino Pomicino sono un elenco di finanziari e mostrui quindi l'argomento sono per l'ostilità e sono contro la riforma costituzionale si può capologgere visto la presenza di Cirino Pomicino Monti telegrafico poi vi faccio vedere il punto sì telegrafico abbiamo detto prima che non sono stati fatti i condoni durante il mio governo il condono è talmente intriso nella mentalità politica che le racconto questa rapidissimamente tutte le volte che ci sono delle elezioni l'ho imparato allora c'erano state le amministrative i manifesti elettorali dei partiti debordano rispetto agli spazi consentiti regolarmente vengono multati credo dalle autorità comunali regolarmente il Parlamento decide un condono di queste cose io ho detto al Parlamento nel 2012 scusate signori onorevoli signori noi stiamo chiedendo sacrifici agli italiani noi non mettiamo nessun condono anche se ci farebbe molto comodo per favore non approvate questa norma non l'hanno approvata e hanno pagato almeno le penalità sulle loro piccole in quel caso malefatte allora avete capito che condono sì condono no il ministro Padoan ha ribadito oggi che non c'è alcun condono nella manovra economica ma in tanti la pensano diversamente sentiamo il punto di Paolo Pagliaro anche quando portano nomi suadenti come collaborazione volontaria o virili come rottamazione dei ruoli i condoni fiscali hanno due svantaggi il primo è di carattere economico perché al sollievo momentaneo per le esauste casse dello Stato seguono nel medio lungo periodo effetti negativi l'aspettativa di nuovi condoni che viene regolarmente soddisfatta induce infatti da un lato i contribuenti a continuare a nascondere redditi e ricchezze e dall'altro gli uffici fiscali ad allentare l'azione di contrasto all'evasione questo fenomeno è descritto e documentato da molta letteratura economica il secondo svantaggio è di carattere etico e riguarda la disparità di trattamento tra contribuenti che hanno regolarmente adempiuto ai loro obblighi fiscali e contribuenti che beneficiano del condono prendiamo il caso della cosiddetta rottamazione dei ruoli chi non ha corrisposto per tempo il dovuto per qualsiasi buona o cattiva ragione lo abbia fatto risulta nettamente avvantaggiato rispetto a chi ha versato i tributi in modo integrale non è detto tuttavia che chi ha sempre pagato ciò che lo Stato gli chiedeva sia disposto a subire in silenzio il danno e la beffa in passato qualche contribuente che non aveva beneficiato dell'indulgenza fiscale ha chiesto alla magistratura che gli venisse restituita la differenza tra il debito estinto in modo ordinario e quanto avrebbe pagato usufruendo del condono sembrava una richiesta ardita e invece la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2641 del primo ottobre 2007 ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso professor Monti crede che l'Europa avrà da ridire sulla manovra economica di Renzi e lei da dove sarebbe partito mi dica una cosa ma nel rapporto con l'Europa avrei non avrei messo tutta l'energia che Renzi ha messo nel chiedere più flessibilità per noi avrei messo più energia nel chiedere alla Commissione che facesse rispettare le regole nei confronti di tutti compreso della Germania in materia di avanzo con l'estero eccessivo è chiaro che non riusciremo mai a far sottoporre anche la Germania alle regole che gioverebbero molto anche all'Italia se siamo un pochino questuanti in materia di flessibilità e lei da dove avrebbe cominciato nella manovra economica non lo so quest'anno non mi sono posto il problema di come avrei fatto la manovra economica non avrei ritardato il pacchetto sulla concorrenza che credo anche lì per non urtare troppo gli interessi è stato posticipato e soprattutto insomma non avrei preso tre anni fa la decisione di togliere quell'unico pezzetto di imposta patrimoniale che c'era in Italia con con l'Imu e di dare una pioggia di bonus il cui effetto economico mi sembra sia stato limitato quello politico forse no e avrei concentrato tutto sulla riduzione del cuneo fiscale per dare più competitività all'economia italiana ecco ma quando il ministro dell'economia Padoan sostiene che questa manovra non è una manovra elettorale ma al contrario aiuta la crescita sbaglia il ministro? Guardi io ho veramente un grande rispetto del ministro Padoan non lo invidio e ovviamente un animus elettorale se c'è nella manovra come a me sembra ovvio che ci sia non alberga certo nella mente e nel cuore e nelle parole del ministro Padoan ma forse altrove Prozio Ceccanti ha capito che lei vorrebbe parlare di riforma ma ormai parlare di referendum sì no è un sì o no a Renzi no io sono contrario a questo approccio perché il governo Renzi passa la riforma costituzionale resta e quindi i giudizi su Renzi e sulla riforma costituzionale devono essere del tutto diversi sono del tutto diversi sono perfettamente d'accordo mi auguro mi auguro che le cose siano così purtroppo andare alla Casa Bianca e chiedere a Obama di esprimersi per il sì non significa indurre gli italiani a votare nel merito ma significa semplicemente e farsi fare un favore lo chiederemo a Trump come bisogna votare a Trump e a Putin sarebbe più utile perché se non altro Trump ha una possibilità su due di essere il prossimo presidente Obama zero ma in ogni caso in ogni caso né Putin né Trump né Obama c'entrano nulla con il merito della riforma costituzionale ok Mario Monti che devo chiudere nel mio caso i giudizi sono distinti come giustamente vuole il professor Ceccanti infatti il titolo dice il mio no a Renzi no è il mio no al referendum ma non vedo ragioni per cui qualunque sia il risultato Renzi non debba andare avanti a governare salvo che lui si stufi di farlo dall'intervista di stamani sembrava che lei votasse no perché era contrario alla finanziaria questa era la lettura più neutrale che si potesse fare all'intervista più o meno tutti abbiamo capito questo però io avevo capito che fosse contrario al nuovo Senato perché è un pasticcio infinito allora ognuno capisce quello che vuole e dato che ne fa parte del Senato lei ha detto tante cose nell'intervista del Corriere della Sera stasera ha avuto modo di spiegarne tante altre io la ringrazio grazie senatore Monti grazie 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 a tutti grazie a tutti